La semia major o anemia mediterranea o morbo di Culey è una patologia ereditaria causata dall'anomalia dei geni che codificano per le catene beta della globina. Quello che ne deriva appunto è una produzione di beta-emoglobina deficitaria. Quest'ultima è la forma più grave di anemia emolitica congenita e frequente soprattutto nel bacino del mar mediterraneo. In Italia si riscontra soprattutto in Sicilia, Sardegna, Puglia e anche Calabria e si ritiene appunto che la patologia sia appunto una risposta evolutiva alla malaria prevalente in passato in alcune aree paludose del Mediterraneo. Questi soggetti infatti presentano dei globuli rossi più piccoli e di conseguenza più resistenti all'invasione del plasmodio della malaria che ha proprio un ciclo vitale all'interno del globulo rosso e questo ovviamente conferiva un conseguente vantaggio selettivo. Il problema più grande di questa patologia è il deposito di ferro cioè la cosiddetta emosiderosi che causa dei danni d'organo e dei danni diandolari. Ne deriva tutto quello che è il corteo clinico della beta-talassemia major cioè la cute di colore bronzo, il diabete, la cirrosi epatica, la disfunzione del cuore, alterazioni a carico delle diandole salivari con un quadro simile alla sindrome di Siogren cioè con ridotta produzione di saliva perché ovviamente il deposito di ferro va ad alterare tutti questi organi, anche il fegato e la milza comportando un epatosplenomegalia cioè un aumento di volume del fegato e della milza con conseguente ematopoiesi extra midollare. Le manifestazioni orali e facciali sono appunto specifiche e si nota proprio come il volto tende appunto ad essere deturpato dalla patologia, le ossa, i muscoli e così via. Avremo delle deformità craniche, un'espansione degli spazi midollari del cranio, un assottigliamento della corticale ossea. È tipico e anche appunto in virtù di ciò il cosiddetto cranio a spazzola che vedete appunto in questa foto. Sarà anche possibile osservare un'espansione delle ossa mascellari così come anche molto spesso delle malocclusioni dentali severe. Il palato molto spesso sarà ogivale, sarà cioè un palato stretto e le ossa zigomatiche saranno anche protruse mentre le ossa nasali intruse. Questo diciamo corteo sintomatologico rappresenta la faccia scaratteristica dell'anemia mediterranea. La diagnosi clinica è con l'Rx ma anche l'evocromo che rivela il quadro dell'anemia è importante. Lo striscio di sangue e l'esame del midollo sono altrettanto importanti. Per quanto riguarda la terapia molto spesso lo specialista può valutare l'esecuzione di eventuali trasfusioni per prevenire le deformità osse. È per questo che la diagnosi precoce è importante ma queste trasfusioni aumentano il deposito di ferro nei tessuti. È importante il supporto medico per eventuali complicanze cioè il controllo delle infezioni ed eventuali emorragie e la splenectomia cioè la rimozione della milza può essere utile soprattutto se va a comprimere il rene sinistro o lo stomaco o se il paziente va incontro all'infarto splenico. L'odontoiatra ne gestisce le complicanze della patologia a livello del cavo orale attraverso il trattamento ortopedico-ortodontico delle malformazioni facciate.